Musica Senta, si attenga a quanto contrattualizzare Domani mattina voglio 2000 euro in contatto Chiaro? Ma no! Basta! Non si può giocare qui, dobbiamo trovare un posto più tranquillo Eh, fosse facile, dove andiamo? Eh, e come facciamo? E' ora carichia! Musica Ho avuto un'idea geniale, ragazze Sapete dove potremmo organizzare la festa per la fine dell'anno scolastico? Dove? All'oratorio Eh già, ad averne uno Qui a Cariglia ancora non c'è l'oratorio Già, è vero, che sbadata Quindi, che si fa? E' ora carichia! Ho detto che ho vinto il Ho detto che ho vinto il Questo anno dobbiamo assolutamente organizzare Il campo estivo Per i bambini che hanno finito la scuola Sì, Don, bellissima idea Ma dove li mettiamo i ragazzi? Mica vorrà farli stare chiusi in chiesa tutta l'estate? Perché no? In chiesa E' anche più fresco Ma no, Don I ragazzi hanno bisogno di più spazio Di un luogo in cui possono anche giocare Un oratorio, per esempio E ora Cariglia! Musica Benvenuti a Cariglia Un bellissimo borgo cilentano Abitato da persone innamorate del loro paese E che vogliono rendere un luogo in cui vivere Appieno il senso di comunità Musica A Cariglia manca un oratorio Uno spazio in cui i bambini Possano incontrarsi per giocare e crescere insieme In cui organizzare eventi per valorizzare il nostro territorio E che possa essere teatro dei momenti più importanti della vita del borgo Musica Finora ci siamo rimboccati le maniche E' già stato fatto tanto Abbiamo già il progetto e il terreno Ma per iniziare i lavori di costruzione dell'oratorio Serve anche il tuo aiuto Musica Abbiamo bisogno di te Dono ora su www.ideaginger.it E aiutarci a regalare a Cariglia un nuovo oratorio Musica Insieme possiamo farcela E ora Cariglia Musica 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 Grazie a tutti